Una squadra, un destino. Siamo lieti di comunicarvi che il vostro gruppo sia qualificato per Break the Cypher Parigi. Parigi! Siete tutti pronti per Break the Cypher Parigi? Siete pronti? Prima ci serve una coreografia. Poi dobbiamo arrivare in finale. E poi va vinta la finale. Non sai chi sono? I Rowness. Sembrano molto bravi. Vinceremo se qualcuno impara a volare. Io so farlo. Potresti contattare tua madre quando sarai lì. Non posso presentarmi da lei così a Parigi. Abbiamo un corso di danza moderna a scuola. Forse posso farti fare un'audizione? Sempre se ti va. Devo allontanarmi per un po'. Di nuovo? Perché? Sparisci a ogni occasione. Io sono qui soltanto per la gara. Sai cosa può significare per me? Ora vuoi impegnarti nella danza moderna? Si va la via con lo spettacolo. 3, 2, 1... And for weisteria. Perché? Qui? Starsi. Car... anzi... Grazie a tutti.